Mi chiamo Stefano Gaggero e ho approvato questa messaggio. Genuani si resta. Perché questo titolo? Si dibatte spesso sul Genuani si nasce, Genuani si diventa, eccetera eccetera. E questo dilemma vale per tutte le tifoserie. Beh questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi Genuano è, ma che per variati motivi vive a migliaia di chilometri dalla sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione, con la medesima intensità ogni giorno, ogni weekend, ogni volta che la sua squadra gioca, a qualsiasi ora del giorno. E allora Genuani si nasce, si diventa, ma soprattutto si resta. Saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar, prima o dopo una partita del nostro grifone, a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno, ma solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo. Sarà solo un bar, lontano migliaia di chilometri. Come diceva Annunzio Quilogamo, cari amici, vicini e lontani. Non siamo allenatori, né direttori sportivi, né giornalisti e tanto meno ex calciatori, al limite ex mediocri pallonari, ma siamo tifosi, quello sì. E spesso nemmeno troppo obiettivi. Beh, non aspettatevi troppo obiettività in questo podcast. Faremo del nostro meglio, ma non garantiamo nulla. E benvenuti ad un nuovo episodio di Germani si resta, ventiduesimo episodio. Ciao Matteo e ciao Francesco. Buongiorno Stefano, tutto a posto? Tutto a posto, tutto bene? Sì, sì, sì. Ciao ragazzi, buongiorno, tutto benissimo qui. Allora, Francesco, da Miami invece si trova in provincia di Cosenza, dai parenti, in vacanza. Sei sopravvissuto ai primi pranzi, cene, ammesso che ci sia soluzione di continuità fra i pranzi e le cene. Sì, diciamo che il challenge è già iniziato, quindi diciamo che la parte training è già andata bene. Molto bene. Allora, torniamo in Europa, andiamo in Irlanda, abbiamo il nostro ospite, vi leggo velocemente la sua scheda. Vive a Dublino, trasferitosi quasi vent'anni fa per lavoro, ovviamente originario di Genova, genuanissimo fino dalla nascita, una genualità trasmessa da suo padre. Prima partita del Genoa allo stadio Genoa-Verona del 1982. Come si definisce? Si definisce un genuano, punto. Giocatore del Genoa preferito di tutti i tempi Ian Peters, giocatore in assoluto zico. Ha giocato a calcio, non tifa o simpatizza per nessun'altra squadra. Fra i suoi hobby e le passioni c'è socializzare, buon cibo, buon vino, viaggiare, arte e tennis. La più grande gioia vissuta dal Genuano, la promozione in A dell'88-89 e la più grande delusione vissuta dal Genuano è la gestione del Genoa dal 2003 al 2021. Il gol più bello che ricorda, segnato dal Genoa, è il gol di Onorati in Genoa Reggiana che abbiamo già citato diverse volte. Quindi da Dublino, Gianluca, Doc Tamagno. Ciao Gianluca. Ciao. Benvenuto al podcast. Partiamo subito dal soprannome, Doc. Va bene. Tanto grazie dell'invito, mi fa molto piacere avere l'occasione di parlare un po' di Genoa con altri genuani sparsi in giro per il mondo. Doc? Beh, per il via del mio lavoro, sono medico. Da lì facile deduzione. Perfetto. Quindi, Dublino, prima di parlare di Dublino, velocissimamente, allora, il tuo primo ricordo del Genoa, abbiamo detto Genoa-Verona dell'82, era l'anno successivo alla vittoria del Mondiale dell'Italia. Quel Genoa-Verona finì 1-0 per il Verona con una delle famose autoreti di Claudio Testoni. Se non sbaglio, Matteo, correggimi, quella col Verona era quella colpita di ginocchio che scavalcò Martina, giusto? Ecco. Non ti sento, Matteo. Sì, sì, sì. Eccola lì. Quel campionato poi finì con la vittoria dello Scudetto della Roma con la festa a Genova e poi l'ultima giornata il Genoa andò a Torino a perdere 4-2 con la Juventus. Io me la ricordo particolarmente perché andai a Torino col Pullman, non mi ricordo, forse proprio del Genoa Club Bolzaneto. Ricordo che andavo in vantaggio con un gol di Benedetti poi, vabbè, dilagò la Juventus e finì 4-2. Tu che ricordi hai di quella partita a Genoa-Verona? A parte l'autorette che credo sia abbastanza storica. Ovviamente ricordi bellissimi. Il momento in cui per la prima volta entri al Ferrari, se vedi l'erba verde luccicante, senti la Nord, vedi i colori, ti puoi immaginare per un bambino, una sensazione bellissima. Era da qualche mese che cominciava a essere consapevolmente genuano. Tra i primi ricordi da tifoso, se vuoi, derivano in realtà dal campionato precedente, la salvezza a Napoli. Ricordo di aver seguito bene o male quella partita per la prima volta in modo semicosciente, diciamo, alla radio. Poi però aver avuto occasione all'inizio del campionato successivo di Ander al Ferraris è stato semplicemente emozionante. Tutto è stato bello. Anche, se vuoi, col segno di poi, anche come è andata la partita, perché perdere a pochi minuti dalla fine in casa contro una neopromossa su autogol avrebbe dovuto essere premonitore di quello che mi aspettava nella mia carriera di genuano. Comunque ricordi bellissimo. Sicuramente il Genoa degli anni Ottanta, per noi che siamo di quella generazione, ci aveva già dato una chiara anteprima di cosa sarebbe stato tifare per il Genoa. Quindi vent'anni fa circa tu ti trasferisci direttamente in Irlanda o hai avuto altri studenti. È stato un lungo percorso per quanto mi riguarda. Io sono andato da prima da Genova a Padova, finita l'università, dopodiché a Parigi, dopodiché in Belgio, dopodiché in Irlanda, quindi in Germania e quindi di nuovo in Irlanda. È stato un lungo giro per l'Europa, se vuoi. Quindi manchi da vent'anni da Genova? Da Genova da più di vent'anni ormai. E in Irlanda ci sei da? In Irlanda, a parte la parentesi tedesca, sono più o meno quindici anni. E come ti trovi in Irlanda? Come si vive in Irlanda? Abbiamo già avuto un ospite da Limerick che ci ha già un po' raccontato, ma Dublino forse è un po' diversa. Secondo me vivere in Irlanda è abbastanza, per così dire, facile. È un paese dove è facile integrarsi almeno a un livello basic. Sono stati anni, tuttora sono anni in cui è abbastanza facile inserirsi anche professionalmente, avere qualche soddisfazione in ambito professionale. finanziario e anche socialmente è un paese dove si vive decentemente, diciamo. Non ci sono servizi eccezionali, non c'è nulla di eccezionale, ma al tempo stesso non c'è nemmeno nulla di particolarmente preoccupante o fastidioso nella vita di tutti i giorni, a parte le solite cose che sappiamo tutti sull'Irlanda, vale a dire il tempo fa freddo, è un'isola, sei un po' staccato dal resto del mondo, ma pazienza. Bene, avete qualche domanda Matteo e Francesco? Qualche commento, anche lui ha avuto un debutto in Serie A con il Genoa con una sconfitta. Io con Torino, lui col Verona, il mio era l'anno precedente, lui l'anno successivo, ecco. E niente, l'Irlanda è il classico esempio di una persona che lavora in campo sanitario medico, che ha più soddisfazioni, più facilità nel realizzare le proprie ambizioni in un paese anglosassone rispetto a quello che può succedere in Italia. Una delle tante storie, me lo potrà confermare, di persone che trovano la realizzazione professionale al di fuori dell'Italia. È difficile, secondo me, da dire. A volte sono anche un po' gli eventi della vita che ti portano da una parte piuttosto che da un'altra. Io ritengo di essere stato comunque fortunato e sono felice del percorso che ho avuto. Non tornerei indietro e non lo cambierei. Poi magari avessi fatto un'altra strada, anche senza spostarmi dall'Italia, magari sarebbe andata altrettanto bene o non so. Comunque, sono contento a sufficienza di ciò che ho avuto nel mio percorso un po' zingaro, diciamo. Se posso fare una domanda, tu hai una specializzazione particolare che ti ha portato a dovere o a voler girare così per l'Europa? O il fatto di aver cambiato paese è dovuto ad altri? No, io sono specialista in medicina interna, però mi sono sempre occupato di endocrinologia, soprattutto dal punto di vista della ricerca. E quando andai a Padova per la specialità, altra cosa fortunata della mia vita che è capitata per puro caso, mi sono trovato nella situazione in cui ho realizzato che mi sarebbe piaciuto fare non solo carriera in ambito clinico, ma anche in ambito accademico, universitario. E da lì è nato un po' tutto quanto. Ho realizzato che avrei dovuto magari fare un'esperienza scientificamente forte in qualche grosso centro di ricerca. Ho avuto modo di trovare questo contatto a Parigi e di spostarmi là come mia prima esperienza all'estero. E da lì è venuto tutto il resto a seguire, ma senza un plan specifico di trasferimento all'estero. È stato il mio tentativo di sviluppare la carriera nella direzione in cui desideravo, che poi mi ha portato a spostarmi di volta in volta nei vari paesi, nei vari posti dove sono stato. Senza voler troppo indagare sulla tua vita, quanti anni sei rimasto nei vari paesi e se dovessi fare un bilancio, tu sei stato in Francia, in Germania e adesso sei in Irlanda. E in Belgio. E anche in Belgio. Riesci a fare, non so quanti anni tu sia stato lì, ma riesci a fare un paragone tra i vari paesi? Come li metti facendo una classifica? Anche a livello sanitario? Della databilità per un italiano nei vari paesi in cui tu hai vissuto? Guarda, molto difficile direi. Sono stato in tutti i vari paesi tra un anno e due anni di permanenza, per cui una certa idea secondo me ha avuto modo di farmela, non profonda ma sufficiente per capire un pochino. E dal punto di vista professionale ogni spostamento è stato dettato da un qualche progetto personale o professionale che avevo, quindi ho sempre visto ogni spostamento come una tappa che poteva durare più o meno a lungo a seconda del raggiungimento dell'obiettivo e del passo successivo. E dal punto di vista dei vari sistemi sembra magari un commento un po' semplicistico, ma lo credo veramente. Ogni paese alla fine ha i pro e i contro, ha degli aspetti molto positivi del sistema sanitario, del sistema universitario e altri aspetti che invece possono essere un po' più discutibili. E magari vivendo dall'interno più sistemi si vedono anche meglio queste cose. Dal punto di vista invece della vita di tutti i giorni dico la verità che sono stato molto fortunato sempre, ho trovato sempre ottime persone, un ambiente attorno a me piacevole. Mi sono sentito a casa praticamente dappertutto. Forse il posto dove sono stato meno bene direi è stato il periodo in Germania, ma era legato a tutta una serie di questioni lavorative che non mi stavano rendendo felice come speravo ed è il motivo per cui poi tornai in Irlanda. Però penso che si possa vivere, vivere decentemente un po' dappertutto se si ha la fortuna di avere una buona rete di persone attorno e se si è soddisfatti con il lavoro. Immagino che anche voi abbiate simili esperienze. Più o meno, guarda, rispetto a te, la fortuna tu sei comunque in un ambito accademico di persone di un certo livello, diciamolo, comunque sei andato a lavorare in un ambito di persone laureate, di persone con PhD, diciamo. Nel settore ad esempio dove lavoro io, specialmente in America, della logistica, purtroppo, diciamo, le persone che finiscono le scuole di un certo livello vanno a lavorare da altre parti. E adesso c'è anche una, ora, vabbè, è una situazione un po' particolare dopo il Covid, così, in cui è molto difficile trovare personale e quindi devi, diciamo, nel nostro settore si tratta con persone di, non è bello a dirsi, ma di livello sicuramente inferiore rispetto all'ambito della professione medica o comunque dell'ambito accademico in campo della medicina, ecco, della ricerca. Quindi, però, comunque, bene o male. Sì, l'adattamento, secondo me, che menzionava anche Gianluca, penso che fosse anche un discorso proprio di cambiare le abitudini, anche a livello proprio di vita, dall'Italia all'estero. Forse Gianluca, appunto, il fatto che abbia girato differenti paesi in Europa e l'Europa ha la peculiarità che qualsiasi paese è davvero parecchio differente l'uno dall'altro. Quindi, forse, paragonata a noi che abbiamo avuto magari la nostra esperienza più americana, insomma, che è l'americano, insomma, dove ti muovi, muovi, più o meno, hai un'esperienza molto simile, a parte Miami che muovono da sé in alcuni aspetti. Voglio farti una domanda, Gianluca, visto che è una domanda che facciamo di solito, sulla quale ci chiediamo in generale a livello di abitudini culinarie, prima di tutto se hai portato alla cucina ligure anche a Dublino. E a questo punto, visto che hai girato più paesi, insomma, qual è stato il paese dove si è trovato meno o peggio o meglio, insomma, a livello di cibo? Guarda, sulle abitudini culinarie devo vergognosamente glissare, perché sono una di quelle persone che cucinerà a casa una volta ogni tre mesi, tipo. Non ce n'ho mai a casa, la volta che ce n'ho a casa ordino una delivery, sono pessimo, lo so. Per quanto riguarda la qualità dell'offerta gastronomica, devo riconoscere intanto che Dublino è migliorata molto negli anni, e negli ultimi due o tre anni offre una discreta qualità, una discreta scelta, cosa che 15 anni fa, ad esempio, non era ancora evidente. In generale devo dire che sia la Francia, Parigi, sia il Belgio, offrono una qualità che per un gusto italiano forse è un pochino più vicina a noi e quindi un pochino più gradita. Sono paesi dove si può mangiare facilmente bene. Tutto sommato anche la Germania non è stata malissimo, perché ha comunque un'offerta di materie prime, di ingredienti, ottima, però non la metterei sullo stesso piano dei paesi francofoni. Ecco, io ho un paio di domande. Tu hai citato Padova, eri mica a Padova nel giugno del 95? No, non ancora. Andata bene. Nel giugno del 95 o meglio? Ci sono stato un giorno col treno speciale per vedere un 1 a 1 sceno e tornare indietro accaldati e disidratati. E poi a Firenze. E poi ho visto tanti padovi anni a Firenze. Un po' più umidi a Firenze. Esatto. Eri a Firenze? Era a Firenze. Era a Firenze. La seconda invece, insomma, usciamo da due anni molto difficili. Tu sei un dottore. Insomma, come l'hai vista con i tuoi occhi questi due anni di pandemia? E soprattutto in Irlanda, come è andata? Guarda, hai detto tutto a te con una parola. Veniamo tutti da due anni e mezzo, ormai molto difficili. Difficili per tutti in modi diversi e con caratteristiche diverse. Ma comunque nessuno può uscirne bene da due anni di questo tipo. per ovvi motivi direi che bene o male adesso la situazione sembra nel mondo occidentale di nuovo in piedi per quanto riguarda la gestione della pandemia e la gestione del post-pandemia. Dovremmo aver imparato tante cose. Non sono sicuro che abbiamo imparato tutto quello che sarebbe stato bello imparassimo da questa brutta cosa che è successa. Però intanto siamo qui, vediamo come riusciamo a gestire questa prossima fase che sarà difficile perché il ritorno alla normalità, secondo me, è un passaggio molto delicato. Come esseri umani siamo estremamente rapidi a abituarci a perdere le buone abitudini sociali e civili ma non siamo altrettanto rapidi forse a ripristinarle adeguatamente. È sempre più difficile fare quel passaggio. E anche dal punto di vista psicologico, lo sappiamo tutti, c'è ancora molta gente che in una qualche misura è in sofferenza di fronte a questi due anni, due anni e mezzo di isolamento, di difficoltà, di paura. Quindi secondo me siamo ancora in una fase delicata e dobbiamo fare del nostro meglio per riprenderci una vita normale che è possibile assolutamente, anzi è doverosa a questo punto. Un'ultima domanda, poi lascio la parola a Matteo che ne aveva anche lui una domanda. Che approccio ha avuto l'Irlanda? L'approccio inglese o più, diciamo nel mondo, ci sono stati tanti approcci, c'è stato quello italiano molto rigido, molto severo, con un lockdown molto ferreo. Qua negli Stati Uniti è praticamente l'opposto. in alcune zone proprio addirittura si è detto c'è il Covid e non si è fatto quasi niente. Ci sono pareri discordanti, c'è chi dice tutto sommato giusto così, tra virgolette nel senso perché comunque bisogna andare avanti. Insomma l'Irlanda, ricordo che l'Inghilterra aveva avuto un approccio particolare anche sui vaccini. L'Irlanda ha avuto due vantaggi. Il primo è stato che la pandemia e le varie ondate sono arrivate qui con qualche settimana di ritardo rispetto all'Europa continentale. Questo ha permesso soprattutto nelle prime fasi un minimo di preparazione più solida per affrontare quello che stava per succedere. L'altro grosso vantaggio è che la popolazione irlandese ha un'età media piuttosto bassa, quindi le implicazioni della malattia in termini di morbidità e di mortalità sono state un pochino meno pesanti anche grazie a questa cosa. Il sistema sanitario irlandese non ha fama di essere particolarmente solido, strutturato e forte, però al tempo stesso, forse rispecchiando un po' anche il modo di essere della popolazione, è un sistema abbastanza elastico, quindi c'è stata una gestione delle terapie intensive, per semplificare un pochino il concetto, estremamente elastica, che ha consentito di non arrivare mai a saturazioni o vicini alla saturazione e si è riusciti a gestire clinicamente il problema in un modo piuttosto soddisfacente. Penso che nei mesi, negli anni a venire, quando sarà possibile avere dei dati statistici per misurare meglio l'impatto di tutto ciò che è accaduto, ci sarà anche la controprova di tutto questo, che già in parte emerge. Detto questo, dal punto di vista politico, l'Irlanda, come tutti i paesi, ha fatto cose che personalmente condivido, altre che condivido meno o non condivido proprio, ha applicato uno dei lockdown più severi in Europa, probabilmente il più duraturo, se guardiamo i vari periodi cumulativamente, tra i paesi dell'Europa occidentale, per contro ha sempre mantenuto canali di viaggio aperti con il Regno Unito e anche con gli Stati Uniti, anche nei momenti di maggiore diffusione del contagio, quindi questo, se vuoi, ha un attimino fatto da contraltare alle misure invece più strette prese in altri ambiti nello stesso contemporaneo periodo, ma questo fa un po' parte di quello che è l'Irlanda, con le sue contraddizioni, il rapporto irrisolto con il Nord e con il Regno Unito, la perfezione non esiste, però tutto sommato direi che il paese si è difeso abbastanza bene. Grazie per questa spiegazione. Prendendo spunto da una delle domande che Stefano fa in anticipo a tutti gli ospiti, tu hai detto che la peggior partita del Gena, tu non hai definito una partita, ma hai definito un periodo che io, con tutto il rispetto per i morti, per la pandemia, la definisco una specie di pandemia rosso-blu, il periodo sotto il past president. Un commento. Beh, è molto difficile parlare di 18 anni in pochi minuti, 18 anni in cui uno può dire ma così a lungo in Serie A non ci siamo mai stati e tante altre cose. Per come vedo io il calcio, il Genoa, l'essere genuano, mi sono trovato un po' in difficoltà perché io credo veramente che ciò che conta sia la maglia, i colori, la nostra tradizione, ciò che significhiamo come genuani, quindi personalmente del risultato e della categoria mi interessa relativamente poco. e in questi anni sembrava che tutto ciò che riguardasse il calcio e il Genoa, sportivamente parlando, fosse un fastidio tra una sessione di mercato e marketing e l'altra. Ho visto una mancanza di rispetto pressoché quotidiana per la tifoseria, per quello che è lo zoccolo duro della genuanità, che è ciò che ha permesso al Genoa di resistere di fronte a qualunque cosa per tutti questi anni. E' una cosa che a me ha cominciato a fare male quasi da subito. Pensa al 2005, ora mi dispiace parlare di cose tristi, però quando ci fu quella vergognosa retrocessione in serie C, che per me è il punto più basso della storia del Genoa, non tanto per la retrocessione in C in sé, ma per le modalità in cui questa è avvenuta, tutte le balle che sono state raccontate al proposito, e le perizie, e il giocatore in aereo, e la finta presentazione con contratti che a quanto pare poi non erano nemmeno stati depositati. Personalmente mi sono sentito un pochino preso per i fondelli, e direi che questo è stato un po' il leitmotiv di tutti gli anni a venire, tutte le varie storie, tutte le varie complottismi, e non sarà mai più un anno così, rispetto per il Genoa e per quello che significa, e poi quasi un invito a non rispettare nella tifoseria, nella storia del Genoa. Mi sono trovato molto a disagio da genuano di fronte a questo nuovo Genoa che abbiamo avuto per 18 anni, per cui adesso sono in un momento di grande entusiasmo, malgrado la retrocessione in serie B, perché per la prima volta voglio un po' vedere ok, adesso cosa succede, cosa faremo? Mi sembra di essere tornati un po' a tifare per una società normale. Sì, si respira un'aria nuova, anche se ovviamente l'esordio è stato con una retrocessione che purtroppo non è un'aria nuova per noi. No, quello che volevo dire io è che è importante la considerazione di Gianluca, anche perché rispondeva alla domanda qual è la più grande delusione, non esattamente qual è il periodo peggiore del Genoa, che poi magari possono anche coincidere nel suo parere, però sono assolutamente d'accordo sul fatto che la gestione preziosi sia stata una delusione enorme per le potenzialità che quell'imprenditore poteva avere e per i risultati che avrebbe potuto ottenere e in qualche piccolo scorcio della sua gestione ce ne ha dato anche dimostrazione, perché voglio dire abbiamo stravinto dei derby, siamo andati in Europa due volte, una poi vabbè non ce la siamo sentita di partecipare, però voglio dire effettivamente anche per me è stata veramente la delusione più grossa. Europa era un fastidio, scusami Stefano. Sì, questo rientra nel fatto di essere infinitamente deluso per una proprietà che poteva fare molto di più per capacità economiche, tutto sommato anche per capacità di conoscenza del calcio, poi c'è chi lo definisce un intenditore forse esagerato, però insomma sicuramente è stato in grado di prendere dei giocatori interessanti che raramente avevamo visto nei decenni precedenti. però ho una grandissima delusione e quindi mi allineo assolutamente con lui. Francesco avevi una domanda? No, volevo innanzitutto appunto come stava accennando anche via CAM Matteo, ottimo intervento, ottimo commento da parte di Gianluca, sono d'accordo con voi su questo esame. Quello che mi rimane onestamente in dubbio in questo periodo è questo cambio che c'è stato di mentalità in quella società, in quella persona in particolare infeziosi che è passato da un entusiasmo esagerato a vabbè l'inciampo in quel 2005 con la retrocessione triste, vergognosa e piena di menzogne appunto dove secondo me poi credo sia stato anche delusore dal fatto che potesse pensava di poter far parte di quella combriccola di alta classifica o comunque far parte di quel gruppo con cui si potesse scambiare qualche inciucio come appunto successe ai tempi di Genova-Venezia e così non fu. Si rise conto e diventò il maggiordomo della Serie A e appunto come menzionava Lu, Gianluca ogni sessione di mercato era un favore a uno all'altro a discapito appunto dei progetti che potevano avere ed è stato uno sprofondamento ogni anno è andato peggio ogni anno è andato peggio però sarebbe curioso appunto sapere magari un giorno si saprà non perché non per qualche motivo soddisfazione in particolare però sapere cosa è stato a cambiare questa questa persona questo approccio che ha avuto con il Gena contentissimo che sia andato via assolutamente e con pieno di ottimismo con questa nostra età aspettando appunto i nuovi cambiamenti che arriveranno però appunto rimane questo dubbio a me personalmente per capire cosa cos'è cambiato Enrico Preziosi per gestire la società da entusiasmo essere il punto focale di tutto diventare un qualcosa di secondario per aiutare insomma gli amici delle altre squadre Beh secondo me c'è stato un paio di fattori il primo ma non per giustificare Preziosi me ne guardo bene sicuramente che il calcio in questi 18 anni quanti sono stati è cambiato tantissimo e a un certo punto probabilmente lui ha capito che tanto comunque più di tanto mi direte l'Atalanta ha dimostrato il contrario però a parte l'Atalanta non vedo grandi eccezioni alla regola che in questo calcio lui comunque più di tanto non poteva arrivare a fare poi magari non poteva non voleva o comunque facendo parte di quel salottino gli avranno detto guarda va bene però comunque stai stai nel tuo orticello e non rompere le scatole e in più poi si è rotto il rapporto con i tifosi e quindi lui da quel punto di vista è molto rancoroso probabilmente non solo ha mollato ma anzi ha fatto tutto quello che era possibile per farci fare ulteriormente delle figure meschine su quello che dici tu forse un giorno qualche d'uno ci dirà io questa è una frase che no non succederà mai ci sono tante cose che non sapremo mai e mai nessuno ci racconterà e qualche d'uno se le porterà nella tomba perché è così funziona così non ci credo quindi quel che è stato è stato felici di avere voltato pagina sicuramente questi hanno un un imprinting diverso il problema che di cui abbiamo discusso tantissime volte anche qui è che l'imprinting di Preziosi è l'imprinting del calcio italiano di oggi quindi serve una svolta in generale nel calcio italiano che non è non è solo Preziosi Gianluca tu cosa cosa ne pensi sono sono abbastanza d'accordo con quello che hai detto Preziosi è una faccia emblematica del calcio italiano di questi anni secondo me non delle più belle decisamente io personalmente sono grato a Preziosi per aver salvato il Genoa dal fallimento nel 2003 ma dopo questo direi che non è che abbia tanti altri motivi di gratitudine anzi avrei più delle rimostranze da fare in qualità di tifoso ad ogni modo è una pagina passata siamo sopravvissuti penso che come società Genoa senza che nessuno mai ci potrà dire se è vero oppure no penso che ce la siamo vista brutta dal punto di vista proprio della salvezza del titolo sportivo e della salvezza da un possibile fallimento che nel clima corrente non mi sembra sia stato così lontano dal nostro mondo e altrettanto adesso sono grato alla nuova proprietà per averci salvato da un trend secondo me molto pericoloso e hanno il credito per quanto mi riguarda per far vedere quello di cui possono essere capaci a me basta che si comportino come una società di calcio normale moderna adeguata al calcio di oggi e poi il risultato che avverrà sarà qualunque so sia va bene o voglia un po' di normalità da genuano diciamo così assolutamente sì prima di tornare al Genoa una domanda che facciamo sempre ai nostri ospiti riguarda appunto il calcio del paese in cui vivono il nostro ospite di Limeri che ci ha raccontato che ovviamente il campionato irlandese la nazionale qualcosina ha fatto vedere negli anni ma il campionato irlandese non offre molto diciamo che lì si guarda molto di più alla Premier League tu hai segui un po' segui la Premier League non particolarmente sono andato negli anni un paio di volte a vedere qualche partita della serie irlandese c'è un bel clima sembra una festa di paese c'è il fish and chips dentro lo stadio una pinta di Guinness sembra una festa i bambini che giocano sugli spalti mentre c'è la partita in corso è un bel clima è una cosa che sembra presa da calcio d'altri tempi o dal calcio dilettantistico comunque d'altri tempi sempre detto questo il livello del calcio in Irlanda è veramente molto basso ora vengono fuori da una o due generazioni modestissime che nulla hanno a che fare con l'Irlanda degli anni 80-90 che invece bene o male è stata una nazionale adeguata per il panorama europeo dell'epoca non è un gran momento per il calcio irlandese decisamente mi hai dato lo spunto per chiederti sei mai stato a vedere l'Irlanda? non la nazionale irlandese ho visto un paio di partite di clubs bohemians la nazionale no la nazionale mai anche se abito vicino allo stadio però non è mai capitato non mi ha mai particolarmente interessato la cosa ti dirò non sono un gran fan delle nazionali in generale incluso la nazionale italiana a dire la verità preferisco i club ma direi che adesso non essere un fan della nazionale italiana per un tifoso genuano è una cosa abbastanza semplice ecco direi ma guarda per me è stato così da sempre da sempre condivido nel 1982 quando l'Italia vinse 3-2 col Brasile erano giusti i mesi in cui cominciava a innamorarmi del calcio in modo consapevole quel Brasile era fantastico infatti come ho menzionato prima Zico per me è un giocatore inarrivabile un mito della mia infanzia però tutta quella squadra tutto quel centrocampo era bellissimo non poteva non farti innamorare del calcio quando l'Italia vinse col Brasile 3-2 io piansi ho un ricordo definito perfetto ma proprio per me fu un momento triste e forse anche da allora non ho mai avuto troppa simpatia per la nazionale italiana poi mille altre cose che sono capitate un feeling di scarsa rappresentazione personale come Genoa nell'ambito della federazione italiana tantissime cose mi hanno sempre tenuto un po' lontano dalla nazionale italiana e in generale da tutte le nazionali io fino al 1990 piangevo dico avevo pianto quando l'Italia pareggiò 1-1 con la Bulgaria che la Bulgaria segnò con Sirakov nel mondiale del 1986 e nel 1990 la sconfitta ai rigori con l'Argentina mi turbò poi iniziai a un distacco dalla nazionale con Sacchi che non proprio non sopportavo come essere umano e adesso come italiana all'estero se vincono mi fa piacere sotto un certo punto di vista ma ripeto il corpo tecnico della nazionale italiana di adesso come Genoa non mi fa abbastanza venire nausea quindi ma infatti poi è anche una cosa penso umana di coerenza se vuoi quando vedi che a gestire la nazionale italiana c'è un gruppo di persone che io ho passato tanti anni della mia vita da tifoso quindi per carità nulla di personale a infamare poi mi trovo in difficoltà a sostenerli il momento in cui sono in una posizione diversa quindi io resto della mia posizione e sotto sotto non nascondo che un pochino mi fa piacere che i due manager che non hanno portato l'Italia ai mondiali sono entrambi non genuani diciamo così vorrà dire qualcosa resterà negli negli annali penso che sia anche un discorso della nazionale relativo anche alla tipologia di gioco alla grinta che non c'è su questa Italia almeno negli ultimi anni quindi non si vede una nazionale che esalta quindi diciamo noi di per sé vabbè a parte Genoa che ci ha fatto patire questi anni quindi magari per essere convinti a seguire la nazionale dovresti vedere una squadra tutto sommato che gioca bene a calcio che comunque ti possa dare indietro quello che tu ti aspetti guardando e ti fando qualcosa e negli ultimi anni penso che non abbia dimostrato questo quindi l'allontanamento in generale penso dalla nazionale si è dovuto anche la qualità del gioco che si sta portando non sta convincendo nemmeno i giocatori quelli che durante il campionato comunque hanno delle prestazioni comunque tro sommato positive i giocanti nazionali diventano una partita della domenica pomeriggio insomma così tra l'amici secondo me noi siamo abituati anche proprio noi quattro siamo abituati per questioni generazionali a un altro tipo di campionato è un altro tipo di giocatori oggi il campionato italiano e i giocatori che giocano e sono protagonisti nel campionato italiano non sono esattamente della qualità del livello dei giocatori che abbiamo visto per tanti anni fino almeno a 15 o 20 anni fa oggi quello che è il campionato italiano sembra quello che era che so il campionato ungherese polacco negli anni 80 non siamo più la serie A europea del calcio ci piace forse ancora crederlo perché siamo stati abituati a quello per tantissimi anni ma ormai è tutta un'altra storia qua gli stranieri che vengono sono o giovani di belle speranze o vecchie glorie i giovani italiani che si dedicano allo sport oggi fanno altri sport negli anni 70 80 erano tutti indirizzati al calcio invece è cambiato è cambiato tutto il calcio non è più lo sport nazionale italiano e forse è un bene ci vuole un po' di cambiamento di tanto in tanto il disastro anche io ho visto un post interessante su facebook dove c'era una foto di un campetto tipo dell'oratorio non so vuoto il disastro è anche che i bambini adesso se giocano al calcio giocano sulla playstation cioè adesso le nuove generazioni sono sono più focalizzati sulle su quelli che vengono definiti come e-sport e poi anche ad esempio tu sei un ragazzo cosa sei degli anni 70 sei nato negli anni sì 75 ecco noi noi siamo nati come appassionati di calcio in una serie A in cui gente come Jan Peters o René van der Eiken che erano stranieri di una squadra di basso livello per la serie A dell'epoca erano comunque pilaste delle loro nazionali come se il Genoa adesso non lo so avesse a centrocampo Frankie de Jong e Witzel del Belgio ecco quindi poi come dicevi giustamente tu il Brasile dell'82 io ancora adesso quando mi voglio un attimo ripulire la vista da certe brutture che vedo in certe parti adesso tipo ho visto la Champions League la finale ho visto della gente pocheità del Liverpool che non sapeva tirare in porta ecco mi vado a vedere non so Brasile-Scozia dell'82 Brasile-Russia dell'82 Brasile-Nuova-Zelanda e mi rivedo un centrocampo o una squadra dove Leo Vegildo Junior giocava terzino sinistra bravissimo perché non poteva essere collocato nella linea di centrocampo perché c'erano i signori Socrates Falcao Serezo anche lì giocatore della Sampdoria però comunque della Roma della Roma in quell'epoca era della Roma poi c'era il più scarso di quel Brasile a parte i due non giocatori che erano il portiere a livello di carriera è stato Eder in quel mondiale lì aveva quel sinistro pazzesco che ci aveva fatto innamorare tutti i bambini sugli 8 9 10 anni quindi noi siamo nati con quel calcio assolutamente poi un'altra cosa della Nazionale scusate se vi interrompo tipo Mancini se nel suo primo periodo ha azzeccato tutto adesso non ne sta prendendo una perché mettere capitano della Nazionale anche se in quella formazione forse come presenza era quello con più presenze donna Roma cioè ragazzi se questi qui sono gli esempi sono quelli che dovrebbero far avvicinare al calcio i bambini uno che dopo averne fatte di tutti i colori non so se avete visto gli highlights di Germania e Italia probabilmente non so se Stefano li abbia visti che neanche tu credo ha preso il primo gol si è buttato sembrava a me alla partita di calcetto quando si iniziava che ero ancora mezzo addormentato perché mettiamo il venerdì precedente ero stato fuori fino a tardi ecco la partita di calcetto del sabato mattina una cosa imbarazzante e questo qui prende non so credo 10 milioni di euro netti all'anno quindi Mancini non ne sta azzecando più una se questo è il modo per far avvicinare i bambini alla nazionale continueranno a guardare gli sport o probabilmente l'NBA sì purtroppo c'è il problema un po' generalizzato che i più giovani oggi non si avvicinano allo sport come invece capitava nella generazione nostra o anche per un po' di anni in seguito qua in Irlanda tutto sommato c'è una tendenza a spingere ancora i bambini a fare una qualche attività però quello che sta succedendo è che i migliori dal punto di vista fisico dal punto di vista di passione sportiva vengono indirizzati o verso il rugby o verso il calcio gaelico gli sport locali che giustamente voi non saprete neanche cosa sono ma qua vanno per la maggiore i fisici migliori vengono impostati su quegli sport chi si chi si dedica al calcio spesso sono un po' le seconde scelte e questo ovviamente ha delle ripercussioni nei calciatori di domani sì che poi tra l'altro il calcio anche lì in questi anni il fisico del calciatore è cambiato veramente in maniera drastica si è passato a un calcio molto fisico ma chiudiamo la parentesi nazionale e riapriamo quella del Genoa ma soprattutto apriamo quella del Genoa Club Dublino raccontaci tutto di questo club quanti siete da dove venite quando è stato fondato cosa fate eccetera guarda mi fa molto piacere che me lo chiedi perché sono estremamente orgoglioso di essere membro del Genoa Club Dublino il Genoa Club Dublino nasce nel 2007 giusto due o tre mesi prima del mio trasferimento in Irlanda è stato lo sai uno di quei momenti particolari in cui tre o quattro persone con la stessa voglia di Genoa la stessa passione si sono ritrovate e hanno deciso di mettere su questa cosa in quegli anni era possibile vedere molte partite in streaming o comunque in una pletola di canali internazionali anche in diversi pub nel centro cittadino e ci siamo ritrovati a vedere le partite del Genoa in un pub in centro un po' per caso in un gruppo che è diventato via via da uno sparuto manipolo di Genoani a un gruppo di 15 o 20 elementi che stabilmente ogni domenica previo accordo con il pub in questione andava a vedere la partita aveva il suo schermo ai suoi tavoli riservati senza neppure doverlo chiedere e la cosa è andata avanti per un po' di anni direi fino al 2012 2013 poi sai come vanno le cose questioni generazionali gente che va gente che viene questioni di famiglia figli altri impegni altre cose per cui c'è stato un po' di ricambio e il Genoa Club Dublino ha perso un po' di elementi ha perso la solidità e l'assiduità con cui seguiva le partite in precedenza però per 4-5 anni mi sentirei di dire con un po' di orgoglio che ha fatto la storia del club di tifosi di una squadra straniera qua a Dublino siamo stati un esempio per altre tifoserie che sulla scia del Genoa Club hanno fondato loro stessi dei clubs e hanno un po' cercato di emulare quello che siamo stati noi per diversi anni nella realtà nella realtà di Dublino è stato un periodo molto bello oggi tanti sono andati via nuovi elementi nuovi genoani stanno arrivando quindi secondo me ci potrebbe essere una nuova linfa per rigenerare quello che è stato e che sarà ancora il Genoa Club Dublino avete un sito una pagina social sì c'è stato una pagina Facebook gestita in modo saltuario in questi anni abbiamo il nostro gruppo Whatsapp non siamo molto mediatici in verità poi in questi ultimi due o tre anni per ovvi motivi c'è stata una presenza fisica praticamente nulla però esistiamo ancora ci sentiamo ancora vivi vegeti e pronti a ripartire nell'ultima stagione avete avuto modo di vedere qualche partita insieme no perché qua in Irlanda come dicevo il lockdown è stato particolarmente duraturo per cui solo gli ultimissimi mesi c'era la possibilità di ritrovarsi al pub e vedere e vedere le partite però in questa fase di rigenerazione necessaria con tanta gente che è partita e nuova gente che è arrivata forse c'è bisogno di un periodo un pochino più facile per far ripartire tutto quanto qualche anno fa ecco a proposito di vedere le partite avete pianificato come vedere la serie B in Irlanda perché noi abbiamo amici in Scozia che non sanno dove sbattere la testa e noi qua negli Stati Uniti forse la soluzione l'abbiamo trovata con Elbeads che trasmette le partite della serie B ecco un'altra parte del problema di essere retrocessi per noi all'estero è anche quella guarda noi abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto con un pub in Partner Street si chiama Woolshed il management del pub ci ha sempre aiutato sostenuto ha sempre trovato soluzioni alle nostre esigenze per cui quando sarà il momento delle prime partite a seconda di dove verranno trasmesse penso che ci sarà la possibilità di trovare una qualche soluzione qualora non ci riuscissimo prima del Genoa Club Dublino c'è stato un altro Genoa Club qua in Irlanda giusto i due o tre anni precedenti al Genoa Club Dublino che si chiamava Genoa Club Irlanda alcuni membri del quale sono poi confluiti nel Genoa Club Dublino che ha una storia molto romantica io non c'ero lo so per sentito dire si ritrovavano in un altro pub e sentivano le partite via radio online che meraviglia affascino secondo me come cosa e qualora non ci fosse altra soluzione perché no andare avanti su quella strada beh se l'ascoltate con le cronaca di Pinnuccio Brenzini rischiate l'infarto ad ogni fallo laterale però comunque avevate anche dei membri irlandesi o solo genovesi c'è stato qualche membro straniero uno due irlandesi abbiamo un membro storico che è argentino tifoso del Boca ma è uno di noi a tutti gli effetti c'è stato un ragazzo tedesco mi pare che per qualche periodo è stato qui e empatizzava Genoa però ovviamente come succede nella tifoseria genoana di cui alla fine un club è solo che lo specchio siamo quasi tutti genovesi io lascio la parola a Matteo che fa parte del Genoa Club New York e a Francesco che è il presidente nonché l'inventore del Genoa Club Miami che possono condividere con te esperienze del genere io qua in North Carolina faccio club per conto mio sono anche io membro del Genoa Club New York e anche del Genoa Club Miami però magari loro hanno delle domande no domande la storia del Genoa Club Dublino è come è un po' come tutti i Genoa Club sparsi nel mondo sentiamo più o meno tutte le stesse le stesse storie ad esempio a New York come lui ha detto gente che viene gente che va ora grazie a Dio finita la diciamo la pandemia siamo riusciti di nuovo a riunirci purtroppo sempre in circostanze tra virgolette tragicamente tragiche da un punto di vista sportivo però è stato bello ecco essersi rivisti ora affronteremo questa serie B con lo stesso spirito che come diceva giustamente Gianluca alla fine noi siamo siamo genuani quel che ci interessa è appunto che il Genoa venga gestito come una squadra di calcio non come un uno strumento di finanza creativa come purtroppo è stato gestito negli ultimi negli ultimi anni quindi più che fare domande a Gianluca ecco mi associo a quello a quello che ha detto ribadendo quelle che sono diciamo le difficoltà ma anche la piacevolezza del del riunirsi con altri genuani espatriati voi siete oltreoceano quindi ovviamente per voi è più difficile qua a Dublino c'è un grosso vantaggio che essendo un'isola i collegamenti aerei sono molto forti per cui praticamente ogni anno è capitato che alcuni membri del Genoa Club Dublino hanno trovato modo di prendersi un aereo al venerdì o al sabato farsi una trasferta che so a Ferrara piuttosto che a Udine piuttosto che ai tempi a Lille quando facemmo quella fugace apparizione in Europa League qualche volta ovviamente a Genova ogni anno capita uno o due occasioni per andare un pochino a fare i tifosi veri non i tifosi via schermo con tutto il rispetto per chi non ha altro mezzo per seguire il Genoa ovviamente però se ti piace il calcio e ti piace di fare una squadra di calcio poterla ogni tanto vivere dallo stadio è tutta un'altra cosa se voi tra l'altro siete anche nella patria della low coaster lines per per eccellenza tra l'altro è la stessa cosa che ci raccontavano anche i ragazzi del Genoa Club UK che quando possono ovviamente in questi due anni è stato molto difficile però da Londra da dove sono prendono e volano su Venezia piuttosto che su qualche altro posto e vanno a vedersi la partita sì quello è sicuramente un grosso vantaggio per voi che siete lì piuttosto vicini ecco non siete a Genova ma poi alla fine ne parliamo come se fosse una cosa seria e se vuoi il Genoa lo è ci mancherebbe però stiamo a parlare di caso dottore è una cosa seria quindi alla fine la questione è cercare di passare dei bei momenti con gente con cui stai bene quindi condividere l'occasione di andare a fare una trasferta del Genoa con un gruppo di amici poi alla fine sono quelle le cose che contano se vuoi il Genoa la partita è un pretesto per tutto il resto bene quindi parliamo di Genoa attuale a sto punto novità poche abbiamo commentato nell'episodio precedente un po' il nuovo logo sentiamo cosa ne pensa Gianluca ma da quello che dice visto che ha applaudito questo passaggio di proprietà e un cambio di rotta immagino che sia abbastanza favorevole raccontaci un po' tu un po' ce l'hai già spiegato quelle che sono un po' le tue aspettative per questa prossima stagione visto che comunque a livello di mercato possiamo solo commentare delle voci e forse non vale neanche la pena commentarle essendo tale il nuovo logo secondo me è molto bello ma è molto bello perché è praticamente uguale al vecchio con piccole modifiche di modernizzazione e con quel dettaglio della coda del grifone all'insù di cui ho letto la storia penso che anche voi abbiate letto che non può essere un dettaglio gradito alla fine per cui assolutamente contento del più o meno nuovo logo e adesso sono curioso di vedere un mercato normale di una società moderna e vedere che cosa questo può portare già il fatto che non ci siano i soliti nomi che girano i soliti tira e molla si deve venire ma no ma il procuratore ma non si sa ma forse viene per il dito indice della giovane promessa più il 20% sulla vendita di quell'altro e buffonate simili penso che vedremo un mercato dove ci sarà una squadra costruita per cercare di venire in Serie A da qui a riuscirci poi c'è di mezzo un campionato però sono relativamente curioso e in una qualche misura fiducioso di vedere cosa questa squadra sarà tra qualche settimana voi siete ottimisti? Moderatamente nel senso molto oggettivamente credo che la Serie B ovviamente fosse un un qualcosa di evitabile e forse nel momento in cui i 777 hanno acquistato il Genua forse non pensavano di andare in Serie B anche se piccola critica al loro mercato di gennaio visto come è finito il campionato si poteva sicuramente evitare questa retrocessione io da quel poco l'ho capito di questo gruppo è che sicuramente loro stanno andando avanti per la loro strada ancora ieri da una mia fonte personale mi è stato comunicato che le voci di Coda e di Diuric sono abbastanza delle invenzioni giornalistiche Coda è stato offerto così come è stato offerto Donnarumma però pare che l'intenzione della società sia di seguire altre strade non quelle di un 34enne anche se bravo in serie B eccetera eccetera quindi l'impressione secondo me è che loro vogliono andare avanti per la loro strada sicuramente fino ad oggi non ha proprio pagato molto e la mia paura è un po' quella nel senso che se rimangono troppo fermi sulle loro idee sicuramente si andrà a gettare le basi per un Genoa del futuro però nel Genoa del presente ho paura che potrebbe non essere sufficiente per ritornare immediatamente in serie A e non ritornare immediatamente in serie A potrebbe rappresentare un problemino anche dal punto di vista insomma del ritorno economico dei diritti televisivi eccetera eccetera questa è un po' la mia paura per il resto sono alla finestra non non sto ancora con la bomboletta a scrivere 777 vattene o andatevene perché è un gruppo però al tempo stesso cerco di essere obiettivo e di guardare le cose per quello che posso vedere ecco fondamentalmente poi cosa stiano facendo di preciso grazie a Dio lo sanno solo loro e infatti i giornali brancolano nel buio però anche questo buttare nomi qua e là come era successo prima con Gasperini ogni tanto non riesco a capire cosa cosa ci sia dietro questo è il mio personale parere Matteo e Francesco ma guarda io ribadisco quello che ho detto nell'ultimo podcast concordo con te sostanzialmente perché anche se sono diciamo fiducioso come ha detto Gianluca costruiranno sicuramente una squadra di calcio una squadra dove chiederanno all'allenatore che tipo di giocatori vuoi cosa che non era successa direi quasi mai a parte forse un periodo con Gasperini ecco io sono più che altro sono spaventato dai genuani perché se quest'anno non si andasse in serie A a parte le le ripercussioni di ordine economico che potrebbero essere parecchio preoccupanti non so quanti genuani al di là adesso del viaggio di nozze gente di mare del festeggiamento tra virgolette della retrocessione ecco se si rimanesse in serie B per più anni o per almeno due anni questo potrebbe creare qualche problematica poi io non do giudizi assolutamente perché l'ultima volta che diedi un giudizio mi chiesero se se me la sarei mangiata quella cosa che avevo detto al momento dell'acquisto di un giocatore quando dichiarai quest'anno andremo sicuramente in serie A sono pronto a mangiarmi un qualcosa quindi oggi c'è la voce che ci sono richieste dalla Germania per Badel vi faccio una domanda a parte vabbè poi Francesco farà ci darà la sua interpretazione voi Badel lo terreste come come avete preso questa notizia via guarda io la sento da te adesso e sinceramente non mi muove un capello che comunque non ho e quindi non si muoverebbe ad ogni modo a un certo punto immagino che la società prenderà le sue decisioni e è proprio lì che voglio vedere come la società si comporta scusa per tornare ancora sull'argomento ma ho voglia di fare il tifoso non me ne frega un granché di chi è che indossa quella maglia piuttosto Badel piuttosto che un altro è la società che deve occuparsi di queste cose gestirle farmi una squadra di cui il tifoso possa essere orgoglioso quindi sono curioso di vedere cosa fanno criticamente nel senso che poi se risulteranno scelte sbagliate come alcune scelte del mercato invernale scorso ad esempio sbagliare è umano ci hanno provato sono andati per la loro strada coerentemente apprezzo quello fossero dei geni del calcio con ogni probabilità avrebbero già vinto tutto con le altre squadre di cui sono proprietari dovranno imparare anche loro quindi voci di Badel piuttosto che altri mi lasciano piuttosto indifferente sono curioso di vedere cosa metteranno assieme cosa scenderà in campo il 13 agosto alla prima di campionato quello sì poi quello che succede in mezzo ho un po' una sensazione ditemi voi cosa ne pensate che i giornalisti genovesi i media genovesi stiano un po' soffrendo la situazione attuale in cui si sentono tagliati fuori in cui c'è una nuova società che va per la sua strada con i canali suoi e se ne frega dei delle storie da parrocchia alle quali siamo purtroppo abituati e quindi questo ha tutta una serie di ripercussioni e sono d'accordo con quello che diceva Matteo prima mi preoccupano più che altro i genoani ma quali i genoani il genuano medio che poi alla fine è simile al tifoso medio di qualunque altra squadra ciò che fa la differenza nella storia del genuano secondo me è un po' la tifoseria organizzata che è una cosa a parte che è diversa e secondo me la tifoseria organizzata è matura e ha capito bene la situazione attuale quindi ci sarà un po' di pazienza un po' di sostegno il genuano medio potrebbe mettersi a rumoreggiare già alla fine di agosto quello sì già iniziato sempre quello e due considerazioni veloci poi lasciamo la parola a Francesco la prima su quello che dicevi te sui giornalisti io nei giorni scorsi certi articoli li ho definiti articoli di frustrazione hai presente il fallo di frustrazione che fa il difensore al termine di una una partita nella quale ha preso solo delle rumbe dall'avversario secondo me alcuni articoli sono dovuti al fatto che non hanno materiale non sanno cosa scrivere e allora buttano oppure peggio ancora perché poiché non hanno materiale seminano zizzania perché non è più come prima che c'erano mille talpe alpio e gole profonde questo secondo me per quello che riguarda i giornalisti per quello che riguarda i tifosi dicevo lasciamo poi Francesco dire la sua ma è una domanda per Matteo se i 777 riuscissero a costruire una squadra che è composta da uno spogliatoio senza dietrologie cioè giocatori che quello lì è stato comprato per fare un favore a quello quell'altro e perché è cugino di quell'altro non pensi che forse anche la tifoseria avrebbe un approccio più soft io credo che tante reazioni della tifoseria genuana negli ultimi anni siano dovute anche alla frustrazione e torno sempre qui del fatto di avere poi delle squadre costruite con dei criteri che sfuggivano alla logica del calcio ecco ma per altri interessi prendere questo un cambio di quella come diceva prima Gianluca magari una squadra che e tornando a quello che diceva Gianluca facciamo i tifosi una squadra che ce la sta mettendo tutta che ovviamente all'inizio se è una squadra rivoluzionata immagino non partirà bomba ci vorrà un pochino però se non hai motivo di appigliarti a questo vuol fare il senatore quell'altro nello spogliatoio comanda questo come è sempre stato negli ultimi anni magari anche l'approccio dei tifosi di certi tifosi perché certi altri come dicevamo stanno già contestando adesso potrebbe essere un po' più benevolo questo dico io Francesco vai pure te e poi se mai rispondete a questo mio quesito allora no sono tanti quesiti nel frattempo arrivandomi arrivandomi il microfono allora partendo dai 777 sono d'accordo con tutti voi per il discorso dell'andamento dall'inizio dove sono stati fatti degli errori però appunto c'è da riconoscere il fatto che nel voler andare avanti da soli senza interferenze esterne per quanto poi non abbia non abbia pagato positivamente però penso che sia un dato positivo nel senso che sono stati anni nella precedente presidenza dove praticamente venivamo condizionati da volontà e desideri altrui quindi anche galleggiando in Serie A fondamentalmente era dovuto al fatto di dover fare favore ad Estramanca gli errori sono stati fatti e spero che da questi appunto abbiano imparato e sono contento che si continui ad andare in quella direzione nel senso comunque seguendo anche una linea loro propria ma magari aggiungendo alcuni tasselli come stanno facendo appunto per per far crescere la società la squadra a livello di mercato tante voci stanno girando e appunto come dite voi appunto i giornalisti stanno brancolando nel buio c'è chi comunque ha quel contatto più o meno tra i vari procuratori perché poi ricordiamocelo che nel mercato poi le voci le fanno loro c'è l'amico procuratore che chiama il giornalista dice guarda che ho sentito il geno quindi che possa essere una verità o meno le voci le continueremo a sentire sui vari movimenti la società però a differenza della precedente non parla non parla non rilascia finché non c'è niente di ufficiale quindi lì è andato definitivamente positivo poi è ovvio appunto il giornalista gossiparo a cui piace sparare nomi ogni settimana e prendere like a seconda di riuscirci a prendere o meno appunto ad essere seguito anche sulle varie testate giornalistiche eccetera insomma quelli continuano avere un po' di difficoltà però l'importante è appunto che la società abbia un progetto ben chiaro che serva a salire il prima possibile e tornando appunto sul discorso tipo anche di Badelli come menzionava anche Matteo non so se siano vero o meno è un giocatore che sicuramente ha dato tanto al genere in questa stagione e in quelle precedenti e soprattutto potrebbe aiutare molto in Serie B però è anche vero che insomma adesso a questo punto bisogna considerare qualcosa di solido in base a quello che la società pensa che sia giusto fare se lo vogliono ottenere i soldi non mancano se è un discorso finanziario il problema si risolve se il giocatore vuole andare è giusto che vada piuttosto che rimanga senza comunque giocare come dovrebbe appunto tenerli contro voglia semplicemente per il denaro onestamente è giusto che comunque abbiamo una società seria e a questo momento si siede col giocatore gli dice se vuoi rimanere i soldi ci sono se vuoi andare via a prescindere dai soldi comunque vuoi fare altre esperienze o altre avrò un altro tipo di futuro eccetera vai nel senso non c'è nessun legame indefinito quindi secondo me è meglio tenersi dalla gente che voglia rimanere che voglia dare tutto e per tutto per il giro soprattutto in questa stagione che sarà molto molto difficile parentesi tifosi tifosi lo sappiamo più la situazione va male più per qualche motivo strano perché siamo noi siamo fatti così più ci attacchiamo quest'anno stavamo andando giù come dei piombi e invece di appunto con tutto perché magari c'era l'entusiasmo della società nuova eccetera però c'è stato un entusiasmo negli spalti per continuare a sostenere la squadra quindi non sono tanto preoccupato su quello a meno che appunto non ci siano proprio degli strafalcioni come ci sono stati appunto nella stagione appunto per la terminata dove c'è stato perché c'è un sacco di confusione parentesi Shevchenko e il mercato di gennaio insomma parzialmente incompleto quindi credo che a prescindere sia giusto comunque dare spazio al campo con la squadra che posso dare il suo e poi da lì io credo che il tifo la tifosi continui a sostenere la società sì se posso dire una cosa al proposito di nuovo torniamo un po' al discorso del calcio dei ragazzini dei nostri tempi rispetto a oggi e così via anche il tifoso è cambiato tantissimo nel senso che io continuo a pensare al tifoso come il tifoso che va allo stadio in particolare la tifoseria organizzata noi siamo cresciuti con quella che era la fossa dei grifoni e sappiamo benissimo che cosa ha significato oggi il tifoso si esprime sui social media che non sono necessariamente lo specchio di quello che è la tifoseria che si fa sentire allo stadio che dal mio punto di vista resta un pochino la parte più significativa di quello che poi è la tifoseria tifoseria che si fa sentire per cui bisogna stare un attimo attenti a quelle che sono le impressioni che si hanno dai tifosi da social media e quelle che si possono avere invece magari allo stadio dalla tifoseria fisica in carne ed ossa e secondo me una società moderna come quella che spero sia la nuova società genua di questi ultimi 8-9 mesi è che con ogni probabilità loro lo sanno benissimo che non sono i rumors o i discorsi fatti su facebook o sui vari muri e muretti ad alterare alcunché di quello che sia il rapporto anche tra tifoseria e squadra e il supporto che la tifoseria sta dando secondo me lo sanno bene e sanno bene cosa significa il discorso fatto su internet che inizia finisce lì e ha un valore quasi nullo e invece la sensazione che si ha e che si trasmette allo stadio da parte di chi è lì e lo fa sentire alla squadra e alla società quindi speriamo anche di vedere qualcosa in questa direzione penso che sia il caso per rispondere anche alla domanda di Stefano io me lo auguro io ripeto io vorrei essere fare come quelle tifoserie inglesi tipo il Nottingham Forest che sono sono rimasti per non so quanti anni in serie B ma loro vanno allo stadio a prescindere se guardi gli abbonamenti del Nottingham Forest negli ultimi dieci anni lo stadio era più o meno quasi sempre pieno ecco io spero che ci sia ci sia quel cambiamento e che le cicatrici dell'era preziosi non siano un fattore e poi diciamo la parte che mi fa paura è per quello che secondo me spero che la società abbia bene in testa che noi il prossimo anno dobbiamo vincere il campionato poi anche come potrei dire il fattore ambientale di Genova quello che a volte quando abbiamo i nostri deliri con Stefano quando vediamo diciamo il facciamo un po' i dietrologi e pensiamo come una città come Genova che non voglia vedere in Genova che va bene ma dall'altro lato invece deve sempre splendere il sole quindi a me sono quelli i fattori che che fanno paura e mi auguro che qualunque diciamo decisione prendano i 777 in termini di mercato abbiano anche quel pizzico di fortuna di di riuscire a mettere assieme quel gruppo di giocatori che ci permetterà nella stagione 23-24 di giocare in Serie A ecco di festeggiare i 130 anni in Serie A bene siamo in chiusura allora non so se Gianluca da doc a doc vuole mandare un messaggio a Zangrillo non lo so fra colleghi magari assolutamente vi ringrazio per la chiacchierata che abbiamo avuto che è stata molto piacevole davvero e vediamo cosa succederà da Genuani con la speranza abituale dei Genuani ogni anno quando sta per cominciare il campionato e con la curiosità di vedere questo nuovo corso come andrà bene noi ringraziamo te io personalmente ma penso anche a nome di Matteo Francesco ci auguriamo che il Genoa Club Dublino torni ai suoi splendori e tienici aggiornati e grazie ancora grazie Matteo grazie Francesco ci sentiamo la settimana prossima e lascio a voi saluti e buon weekend grazie a tutti è stato un piacere e speriamo che il Genoa Club Dublino presto ritorni a prendere un aereo della Ryanair per qualche distinzione europea che non sia italiana bravo mi piace la cosa bravo grazie grazie ragazzi grazie Gianluca e sì mi auguro lo stesso e speriamo che il Genoa Club Dublino torni ai suoi splendori forza Genoa ragazzi e forse Miami e New York saranno lì anche loro faremo una grande festa in qualche città europea dai speriamo Miami ci mette il jet privato avete ascoltato? Genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.